Claudia, cosa rende interessante l'autobiografia di qualcuno? Un'autobiografia diventa interessante quando, oltre a raccontare la vita dell'autore, riesce a trasmettere esperienza. I libri che trasmettono esperienza sono quelli che narrano di avventure straordinarie. In un oceano in tempesta a caccia di una balena bianca, o anche in una piccola bottega in cui si costruisce un burattino di legno. I libri che trasmettono esperienza non raccontano solo la vita dell'autore, ma esprimono la sua vitalità. Anche un semplice evento, apparentemente insignificante, se descritto artisticamente e non come semplice cronaca, può diventare straordinario, o meglio, extra quotidiano. Diciamo quindi che un'autobiografia diventa interessante quando trasmette la vita extra quotidiana dell'autore. Per fare questo, occorre distinguere le tecniche della scrittura in quotidiane ed extra quotidiane. Quelle quotidiane sono in genere caratterizzate dal minimo impiego di energia per la massima resa. Le tecniche extra quotidiane si basano, al contrario, sullo spreco di energia. A volte sembrano addirittura suggerire il principio opposto a quello che caratterizza le tecniche quotidiane, cioè il massimo sforzo per il minimo risultato possibile. Se la vita è equilibrio, la vitalità è l'alterazione di questo equilibrio e lo sforzo per mantenerlo. Compito dello scrittore è mostrare la lotta contro tutto ciò che vuol far cadere l'eroe, contro la morte o la semplice sfida alla forza di gravità. Come l'apparentemente banale stare fermo in piedi, è una battaglia per contrastare la tensione a cadere. È un'immobilità dinamica. Perché alla fine un'autobiografia, per risultare interessante, deve essere anti-economica, garantendo il massimo sforzo per il minimo risultato. È quando il protagonista perde l'equilibrio e cade dalle sue scarpe, che da vivo diventa vitale.